Grazie signori, ma come sono fortunato, beato per le donne, finalmente anch'io, grazie Willi, finalmente anch'io ho trovato la mia anima gemella, lo metto, un applauso, un applauso, finalmente, dopo tanti anni, ma cosa faccio, questo è veramente convinto, dopo il Pol Bar tutto l'inverno, ci prova, e pensa che magari, signor Polo, ma dai, buonasera a tutti, benvenuti, ma quale buonasera, ma state rovinando il mio momento idiliaco della vita, lei è tutto l'inverno che ci tenta con la nostra direttrice, è la nostra direttrice, ma qual è la vostra direttrice? A parte che non può andare in giro vestito così, si chiude la patta, guarda qui, scatta là, ci casca sempre, che simpatici, siete simpatici, allora, scusi, scusi, mi hanno fatto l'applauso, a lei, mi hanno fatto questa splendida ragazza l'applauso, guardate che meraviglia, Francesca Errettin, prego! Basta, voglio fare lo sfinato, va via! Ha detto che me l'ha dato! Ma cosa, ma scusa! Vengo con me, perché adesso l'insegno di Camasuto è in salto, ma cosa sei dicendo? Ma dimmi tu! Eh vabbè, 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 signori, scusate, vabbè, buonasera a tutti, ma che bel pubblico, fatevi un applauso, bel pubblico, grande! Bello, eh! Pubblico di Santa Teresa di Galluna! Eh, vabbè, viaggio ammollato! Eh, no! Io pensavo veramente di fare una bella figura, uscire fuori con questa bella ragazza, la mia direttrice, la mia direttrice... La bella figura lei l'ha fatta! Sì! Lei però, lei... Lei la direttrice! Ah, lei la direttrice! È da molto che sta facendo questo lavoro, signor Pugl, è contento? Eh, sì! Quanto sarà, signor Pugl? Oh, è contentissimo! Dopo Paul Park, grande successo, 5 Stelle, è contento? È vero, molto, 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 sono molto contento, veramente! È che non gli hanno dato un centesimo, comunque! Ma cosa c'entra? Ma scusi! Ma per favore! Eh, ma avete, oggi avete approfittato di questa giornata per andare a, qui al mare, nella spiaggia bellissima di Santa Teresa? Eh, sono stato un po' con sua sorella, mi sono divertito parecchio! Ma lascia stare che non si tocca alla sorella del mio po'. Ma scusate, ma scusate! La sorella che tocca alla grande, devo dire! Ragazzi, scusate, scusate! È stato un piacere stare con voi! Arrivederci! Buonasera, arrivederci! Ci vediamo doppio! Doppio, sì, ciao! Pio Pavo e Stefano! Vai!